L'anno volge al termine e domani sera l'amministrazione comunale di Teggiano ha deciso di festeggiare il primo capodanno in piazza. Siamo con Angelo D'Alto, organizzatore di eventi, in modo particolare di questa Kermess Natalizia, Suggestioni di Luce, un Natale mai visto, tanti eventi in questo mese. Domani sera cosa prevede il festeggiamento del primo capodanno in piazza tegianese? Sì, prevede uno spettacolo che inizia alle ore 23, quindi le famiglie e le persone hanno tutto il tempo di cenare con calma e poi uscire alle 23, inizia lo spettacolo di questo gruppo salernitano, il disco Inferno Live, poi a mezzanotte ci sarà un brindisi con l'amministrazione comunale, gli auguri dell'amministrazione, i fuochi pirotecnici e poi a seguire si continua fino alle ore 2 con musica e divertimento. Quindi una serata particolare, per la prima volta un esperimento, quello di Teggiano, credo nel Vallo di Diano, la prima volta un capodanno in piazza festeggiato da un comune. Cosa si aspetta da questa serata, lei che è l'organizzatore principale? Prima di tutto mi aspetto che il tutto si svolga in maniera tranquilla, le famiglie e chi verrà a Teggiano si divertiranno tutti e poi eventualmente tireremo le somme. Al momento la prima parte della rassegna in suggestione di luci è andata bene, i weekend sono stati sempre abbastanza pieni, quindi adesso dobbiamo superare un po' questo freddo che è arrivato, però fa parte del periodo e degli eventi invernali, sicuramente sarà una bella serata. Sindaco Cimino, come dicevamo un esperimento, quello di Teggiano, per la prima volta quest'anno un capodanno in piazza, lei cosa si aspetta dalla serata di domani sera? Beh, innanzitutto ci aspettiamo che arrivi tanta gente nonostante il freddo. Il freddo è veramente polare quest'anno, però è bello festeggiarlo tutti quanti insieme. D'altronde il centro storico di Teggiano, bello e suggestivo com'è, evoca un poco certi paesini del Trentino. Chi è abituato ad andare sulla neve, spesso il capodanno l'ha passato così, anche a temperature più fredde di quelle che ci saranno domani sera. E comunque sarà un capodanno diverso per Teggiano, perché il fatto di riuscire a portare nella piazza, nel cuore della nostra comunità, la gente di Teggiano, la notte di capodanno, e augurare perché insomma si possa iniziare un percorso importante dal punto di vista di comunità o dal punto di vista amministrativo, diciamo coeso, perché la gente, noi riteniamo, ha bisogno di queste manifestazioni di unità per poter avere fiducia e quindi iniziare dei percorsi virtuosi che a Teggiano si possono fare. Noi ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni, perché questa manifestazione, al di là insomma di qualche piccola pecca, perché è stata organizzata in breve tempo, noi dobbiamo ringraziare il nostro direttore artistico, Angelo D'Arto, che è riuscito in 20 giorni a mettere su una macchina quasi elefantiasica. Non era facile organizzare questa Kermess in così poco tempo. Però siamo riusciti ad esportare Teggiano attraverso le nostre manifestazioni in varie nicchie dove noi non saremmo mai riusciti ad entrare. E questo è importante, anche perché noi dobbiamo promuovere il nostro centro storico e rivolgerci naturalmente anche ad un turismo particolare che si può, come dire, agganciare soltanto con manifestazioni di questo tipo. Teggiano deve diventare un po' il salotto del vallo, il paese della cultura, del buon vivere, il paese della musica e noi speriamo insieme, naturalmente con tutti gli altri paesi del vallo, di riuscire a creare un percorso virtuoso che porti a valorizzare questo territorio che lo merita. Quindi sulla scia di altre grandi città campane come Napoli e Salerno avremo gli auguri di mezzanotte insieme al sindaco e all'amministrazione comunale. Vogliamo invitare i cittadini di Teggiano e non solo, gli abitanti del vallo a partecipare al primo capodanno in piazza San Cono? Eh beh, le invitiamo tutti naturalmente, sperando che possano anche divertirsi nonostante il grande freddo che ci sarà. Speriamo che da questo capodanno nascano tanti piccoli focolai che poi diventano un grande incendio che possono portare il nostro vallo all'attenzione che merita.